Faccio questo appello perché è molto importante donare il sangue chi ha provato, chi ha un amico o un conoscente che è stato salvato grazie a un donatore di sangue, voi sapete che potete farlo e siete molto importanti, siamo molto importanti donate il sangue per la nostra comunità sanese